Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Io sono il maestro Riccardo Di Vito, sono il capo istruttore nazionale di questa scuola che si chiama Black Flag Vincione e oggi voglio parlarti di un tema davvero molto molto importante, quello relativo alla difesa personale. Di che cosa tratteremo oggi? Oggi tratteremo in maniera abbastanza approfondita o almeno il più approfondita possibile tutti i miti da sfatare, davvero tantissimi sono i miti che riguardano proprio la parte relativa alla difesa personale. Il nostro obiettivo è quello di promuovere una visione realistica e consapevole della difesa personale. Non stiamo parlando di un corso sotto casa, di un'attività ludica, giocosa, stiamo parlando di qualcosa che ti serve per portare a casa la pelle in una situazione di pericolo reale. Quindi, se ti piace saperne di più rispetto a questo tema, sei il benvenuto, questo video fa al caso tuo, e rimani collegato fino alla fine perché affronteremo almeno una decina di miti che sfateremo insieme uno a uno. Prima di partire con questo video, voglio ricordarti che tutto quello che ti dirò non sarà frutto di teorie fantasiose, ma di 25 anni di pratica personale, di più di 15 anni di insegnamento, e davvero la parte della difesa personale mi ha veramente sempre attratto particolarmente perché è stato uno dei motivi per cui ho iniziato a praticare 25 anni fa arti marziali tradizionali cinesi. Proprio perché sin da ragazzo sono sempre stato riccio con gli occhiali, con la mia pancetta, e da quando sono stato ragazzo vivevo in un quartiere abbastanza degradato della capitale, della mia città, di Roma, dove sono nato, e ho sempre avuto problemi appunto di difesa personale. Nel senso che il mondo della difesa personale parte sicuramente dagli aspetti psicologici e mentali che vanno ad attaccare proprio le persone che da parte di chi ovviamente sceglie la propria preda sono tutte persone che si mostrano deboli per certi versi. Quindi la fisicità, così come certi atteggiamenti del carattere, certe caratteristiche proprio personali, fanno sì che la persona che cerca le sue prede, le cerchi proprio in certe tipologie di persone appunto che hanno queste debolezze, passate mili termini. Quindi il mondo della difesa personale spesso e volentieri è inteso semplicemente come tutta quella serie di tecniche che servono in un momento, in un contesto di collottazione per affrontare il problema e per venirne fuori nel minor tempo possibile. Beh, già solo da questo punto di vista, come capo istruttore di questa scuola ti posso dire che siamo parzialmente d'accordo nei nostri insegnamenti perché in realtà il mondo della difesa personale parte proprio molto prima della collottazione stessa ma come vedremo adesso sfatando mito dopo mito. Allora, andiamo proprio nel dettaglio, me li sono appuntati così non me ne voglio dimenticare nemmeno uno. Primo mito, segna se vuoi, possedere un'arma garantisce la sicurezza totale. Ah, niente di più lontano dal vero. Ce lo dimostrano le storie che tutti i giorni ascoltiamo nei telegiornali o leggiamo sui giornali che vengono dall'estero, specialmente dagli Stati Uniti, dove l'utilizzo e il porto di armi è consentito davvero con estrema facilità e come hai già visto, di fronte a un numero sempre crescente di armi portate nelle proprie tasche e nei propri zaini, come hai visto, davvero è pieno di situazioni di super violenza. Quindi il fatto stesso di possedere un'arma non garantisce assolutamente nulla. ci sono tanti motivi per questo. Sicuramente, per prima cosa, se anche fosse che hai fatto tutto il tuo periodo di, come si dice, che serve per poter prendere la licenza di porto d'armi, hai fatto i tuoi investimenti per comprare un'arma, fai i tuoi investimenti per andare a poligono di tiro, a sparare, eccetera, eccetera, che cosa c'è da dire? È che nella situazione di, diciamo, dove dovessi mai trovarti, nelle condizioni di dover utilizzare quell'arma, nessuno ti dice se la utilizzeresti o meno. Perché? Perché non è una cosa che puoi testare continuamente e allenare continuamente come abitudine, a meno che tu non faccia parte sempre di quel stretto gruppo di persone che fanno parte di forze dell'ordine, esercito o qualsiasi altra arma che già, ovviamente proprio per il lavoro che fa, è abituata a estrarre l'arma e a utilizzarla nel miglior modo possibile, ovviamente proprio per lavoro. Quindi, tranne in questi pochissimi casi, qualche migliaio di persone in Italia su 60 milioni di abitanti, già solo questo ti fa capire che anche se avessi con te un'arma da fuoco, faccio un esempio proprio pratico, non è detto che la utilizzeresti nel caso di pericolo. E poi c'è tutto quel mondo che va nell'eccesso della legittima difesa, che giusto o sbagliato che sia, al di là delle mie opinioni personali e delle tue opinioni personali, ci sono delle leggi specifiche che fanno sì che se tu estrai un'arma e fai fuoco contro una persona che magari in quel momento non è armata, sappi che passeresti dei grossi, come si dice, dei grossi guai. Quindi va proprio valutato bene questo aspetto rispetto alle armi. Il fatto stesso poi di possedere l'arma non ti dà una vera e propria sicurezza. Facciamo finta che invece che l'arma da fuoco fosse un'arma da taglio, che io adesso prendo il mio pennarello, ma insomma potrebbe essere qualsiasi altra cosa, no? Il fatto di possedere un'arma da taglio non è detto che ti dia la sicurezza, perché è legata esclusivamente a quello strumento. Quindi c'è chi cerca sicurezza e si munisce di armi, chi porta il tirapugni, chi porta il manganello estraibile, quello che chiamano spagnolo, chi porta il tonfa, chi porta questo e quello, gli spray al peperoncino, tutto quello che vuoi, ma quelli sono degli strumenti, degli strumenti forti, in mani deboli rimangono strumenti deboli. Ecco perché nel Black Flag Wind Chore, nei nostri corsi intensive, che cosa facciamo? Dedichiamo tantissime ore, nei prossimi faremo addirittura 15 ore dedicate proprio alla parte relativa a difesa personale, proprio per rendere forti le mani che poi potranno prendere oggetti magari molto deboli, come per esempio una penna. Sai perfettamente, probabilmente guardando anche magari i film, quelli come Steven Seagal o altri attori, grandissimi attori, che hanno fatto insomma la storia delle arti marziali all'interno del cinema, qualsiasi tipo di arma trovata lì per caso, del tutto casuale, come potrebbe essere una penna, potrebbe essere un'arma micidiale, proprio perché armi deboli, mani forti, possono essere davvero letali. Quindi non è il possedere un'arma che ti garantisce la sicurezza totale. La sicurezza ti può essere garantita soltanto dalla tua autostima, da quanto lavoro hai fatto, da quante volte ti sei allenato in un contesto simile realistico, quindi i tuoi partner d'allenamento, da quante volte hai testato e da quante volte la tua mente inconscia ha preso la capacità di reagire a certi tipi di attacchi che possono essere appunto simulati. Il secondo grosso mito da sfatare, il fratello del primo probabilmente, è proprio l'invincibilità data dall'arma, quindi un'arma rende invincibile. Un'arma puoi sostituirlo con qualsiasi cosa, invece che parlare dell'arma puoi dire che il mio spray al peperoncino rende invincibile. Ho assistito nei miei anni di carriera come insegnante professionista, ho assistito davvero a tantissimi corsi di difesa personale dove le persone vengono addestrate per esempio a portare appunto spray al peperoncino all'interno della propria borsetta. Beh, lì ci vuole veramente tanta speranza che questa cosa funzioni, perché dal momento in cui parte la collottazione o anche solo l'aggressione e diciamo il tempo che passa dalla razionalità dell'andare a aprire la borsetta, mettere le mani nella borsetta, trovare l'oggetto giusto nella borsetta, poi sappiamo specialmente magari nella borsa delle donne che sono sempre piene di un sacco di roba, andare a trovare proprio quell'oggetto che tu stavi cercando. E cosa succede se non lo trovi? Sale ancora di più il panico perché non hai lo strumento, il mezzo che secondo te, secondo quello che ti è stato spiegato, potrebbe essere risolutivo. Ma anche se tu avessi uno spray al peperoncino, quante volte hai sparato lo spray al peperoncino di fronte al tuo partner di allenamento? Mai? Ecco appunto. Il problema è proprio questo, è quante volte si possono allenare determinate reazioni affinché vengano istintivizzate all'interno della mente inconscia e non ci sia bisogno della razionalità proprio per utilizzare questo tipo di processo. Ecco perché il suggerimento che diamo sempre a tutti non è tanto quello di rendere, come si dice, di pensare di essere sicuri e invincibili grazie a uno strumento esterno, ma di lavorare tantissimo sullo strumento più importante che c'è, te stesso o te stessa. Perché questo? Perché con un'autostima molto forte derivata dall'applicazione costante di alcune regole fondamentali della difesa personale, cosa ti può accadere? Ti può accadere di essere talmente tranquillo, tranquilla, da non sembrare mai un soggetto debole agli occhi di un possibile predatore. Quando si dice certe persone, a Roma si dice un po' se la tirano. Non è che se la tirano, è che alcuni purtroppo con i loro atteggiamenti tendono a sentirsi delle vittime, si atteggiano a vittime, stanno sempre alla testa bassa con la schiena ricurva in giù o magari sempre con questi benedetti o maledetti, vedi tu, cellulari e quindi sono distratti, non hanno una postura di autostima e di controllo che allontana già il 50-60% della possibilità di essere attaccati. Perché? Perché sono appunto distratti, perché sono in un atteggiamento da preda. Ecco perché capita più spesso ad alcuni tipi di persone di essere attaccate. Entriamo nel terzo mito. Il terzo mito da sfatare è sicuramente quello di le armi da fuoco sono la soluzione definitiva. Ci voglio porre ancora attenzione su questo pezzettino che è legato agli altri due che abbiamo già trattato. Le armi da fuoco davvero sono una cosa pericolosissima. Avrete sicuramente sentito nei telegiornali, anno dopo anno, quanta gente viene ferita dalle armi domestiche portate a casa e lasciate a casa e incustodite, utilizzate nella maniera più sciocca possibile, più grossolana possibile, magari lasciate lì anche per distrazione, provocano danni veramente grossi. Quindi quello che potrebbe essere uno strumento di difesa, di adesso mi porto la mia pistola e con questa vedrai che non succederà più niente, in realtà è proprio avendo quello strumento lì che è uno strumento di morte, diciamocelo tranquillamente, perché noi siamo in un contesto nazionale dove davvero l'ambito della violenza, sebbene sia cresciuto per alcuni versi, per alcuni parametri, per altri versi, per esempio appunto sull'utilizzo delle armi è sceso moltissimo. Basti pensare ai nostri anni 70, veramente era un altro pianeta rispetto ad oggi. Quindi le armi da fuoco non sono più così solite, non è così solito trovare e intercettare persone con armi da fuoco. Ecco perché nell'ambito della difesa personale non sono e non possono essere la soluzione definitiva, anche perché ancora una volta la cosa importante da ricordarci è che è uno strumento. Se tu non ti addestri sempre, continuamente, con costanza, con cognizione di causa, in situazioni avverse, con il vento a sfavore, in una situazione magari in cui non riesci a controllare bene quello che sta accadendo, davvero potrebbero essere un pericolo ancora maggiore. Quindi per concludere il discorso rispetto alle armi da fuoco, bisogna fare non solo estrema attenzione a ritenerlo anche solo lontanamente la soluzione alla possibilità di sentirsi sicuri, ma soprattutto e ancora di più attenzione massima perché un'arma non dissuade l'altra persona, anzi. Ed entriamo adesso nel quarto mito da sfatare. La presenza di un'arma dissuade automaticamente gli aggressori. Mai, mai, mai fidarsi di che dice una cosa del genere. Perché al di là della tua possibilità di portarti qualcosa appresso a livello legale, poi sarebbe tutto da vedere, ma facciamo finta che sia legale, che tu hai tutte le, che sia tutto in regola per poterle portare, immagina di fronte a te una persona che prova magari ad attaccarti, magari anche solo per finalità di rubarti, magari portafogli, che vede che tu nel frattempo estrai un'arma, qualsiasi che essa sia. È proprio in questo caso che l'altra persona, se davvero è un predatore, se davvero è una persona malvagia che ti vuole attaccare, quando vede l'arma estratta diventa un richiamo all'attacco. Quindi vai a rischiare ancora di più. Ecco perché non c'è niente di più importante nella tua vita. Se ti chiedono dei soldi, dali, non fa niente, i soldi ritornano, si rifanno, non c'è problema. Ma quando è in gioco la tua vita non puoi esporre, estrarre armi che tu magari non sai utilizzare o che non sei disposto a utilizzare e la tua etica ti porta a non utilizzarle per offendere. È proprio lì che si corre il maggior rischio, perché è proprio quando la preda fa finta di essere forte che il predatore attacca ancora con più vehemenza. È esattamente come quando spieghiamo nei nostri corsi di difesa personale all'interno, per esempio, dei percorsi intensive, dove spieghiamo esattamente questo. Se c'è una fase di pre-colluttazione dove c'è una discussione animata, se tu chiudi i tuoi pugni e ti imposti pronto per il combattimento per prenderti a pugni, è proprio lì che l'altra persona potrebbe dire ho trovato una preda che fa finta di essere forte, adesso l'attacco ancora più forte. Quindi attenzione massima al concetto della presenza delle armi. Nessun'arma, nessun'impostazione di combattimento può dissuadere l'altra persona se l'altra persona ha deciso di attaccare. Anzi, fai attenzione, potresti provocare proprio l'opposto. Quindi attenzione massima. Quinto minuto a sfatare, l'ho preso qua all'appunto, la forza fisica è il fattore principale per avere successo nella difesa personale. Anche qui entriamo proprio in un ambito veramente, diciamo, davvero quasi assurdo. È come se nella difesa personale ci fosse una regola di peso, o le regole di età, o le regole tipiche dello sport. È proprio quando una persona è più debole che l'altro, chi attacca, lo attacca con più voglia, vehemenza, cattiveria, perché ha trovato la sua preda, proprio perché è una preda debole. Io non ho mai visto nessuno, magari nessuna donna, magari anche piccolina, magari minuta, attaccare un uomo più grande e più forte di lei. Mai, non mi è mai capitato. Mi è sempre capitato il contrario. Questo perché? Perché il predatore, per il suo formamentis, per la sua psicologia, va proprio ad attaccare le persone più deboli. Non è un caso che la maggioranza delle aggressioni che si svolgono, che arrivano, denunciate, diciamo anche da tutto il mondo delle donne, sia proprio all'interno delle mura domestiche dove c'è una sudditanza psicologica, economica e anche e soprattutto fisica, che permette quindi all'uomo predatore, in questo caso, di poter esercitare violenza di qualsiasi tipo nei confronti della preda, che è una persona più debole, che ha delle debolezze rispetto a lui. Quindi assolutamente è lontano dal vero il fatto che serva una fisicità, una forza fisica particolare come fattore principale per avere successo nell'ambito della difesa personale. Tant'è che nei nostri corsi che facciamo, proprio di Black Flag Vincione, va veramente tanto, tanto, tanto tempo, è dedicato proprio a studiare l'energia di impulso, cioè come trasferire la maggior potenza, la maggior forza possibile al possibile attaccante senza l'utilizzo di catene cinetiche estremamente forti, che vanno estremamente allenate e quindi con muscoli super prestanti. La difesa personale non ha niente a che vedere con uno sport a combattimento. La difesa personale non ha neanche a che vedere con il fitness, quindi con lo stare in forma, con lo stare bene. È ovvio che se ti alleni stabilmente nell'ambito della difesa personale, fai tante ore di pratica, eccetera, è ovvio che il tuo fisico sarà migliore di prima, ma sicuramente non sarà un fisico preparato da gara, non sarà un fisico molto più forte di quello che potrebbe essere quello del tuo possibile avversario. Quindi assolutamente sfatiamo anche questo mito. Sesto mito, importantissimo anche questo, la difesa personale si basa principalmente su mosse spettacolari. Anche questo, ragazzi, davvero, io vedo tantissimi video ogni settimana perché da professionista mi voglio vedere anche tutto quello che gira online. Sono tutti molto belli, ma la maggior parte di questi video mostra tutta una serie di sequenze tecniche davvero molto lunghe, dispendiosa a livello energetico, diciamo non proprio istintive, se passatemi il termine, ma soprattutto il grosso del problema è che sono belle da vedere, ma non è detto che la bellezza faccia, come si dice rima, con funzionalità. Quello a cui dobbiamo mirare come professionisti del settore, ma anche te magari che ti stai avvicinando per la prima volta ai corsi di difesa personale, bisogna che miriamo tutti quanti insieme all'efficacia e all'auto-efficacia. Questo che significa? Significa avere la capacità di intercettare il movimento dell'avversario, capire il momento in cui l'avversario sta passando dalle parole ai fatti, capire quando l'avversario si sta avvicinando troppo, capire quindi la distanza di sicurezza, capire come mettersi rispetto all'avversario, quale gestualità utilizzare con le mani affinché si comunichi sicurezza, non paura, non respingimento, ma neanche pugni chiusi da, diciamo, che istighino l'avversario a poter provare l'attacco. Quindi bisogna studiare tanto approfonditamente questa, diciamo, questo ambito della difesa personale, ricordandoci che il bagaglio tecnico non è indispensabile, nel senso della parte tecnica possono essere quelle 10, 15 movimentazioni tra braccia e gambe che ti possono dare quei secondi che ti servono per andare lì e chiamare i soccorsi nel più breve tempo possibile. Non possiamo pensare a tutta una sequenza di movimenti, di mosse, strategie che riguardano di più uno sport a combattimento, magari quella che è la nostra arte marziale tradizionale, in tutti i suoi aspetti, negli anni di pratica, nell'ambito di difesa personale, devi poter avere i tuoi strumenti in un tempo abbastanza ridotto, potrebbero essere anche veramente 50 o 60 ore di teoria e di tecnica da prenderti, da poter allenare per tutto il resto della tua vita, affinché si istintivizzi tutta una serie di movimentazioni e di reazioni che ti possono appunto salvare la vita nel momento del pericolo. Ricordati sempre però che al di là di questo, la prima cosa fondamentale è lavorare sulla mentalità, sulla comunicazione, sul saper dire di no, sul saper gestire le distanze, sul saper allontanare la persona che ti si sta avvicinando quando soprattutto tu non lo vuoi, che sia parente, amico, collega di lavoro o qualsiasi altra storia. L'importante è ricordarti che la tua sicurezza parte da te, da quando ti senti sicuro o sicura. Non permettere a nessuno di avvicinarsi, anche fosse in maniera un po' subdola, le carezze, l'abbraccio, la pacca, questa roba qui, che potrebbe ingenerare nell'altra persona il convincimento che tu sia una preda facile. Assolutamente no. Mi raccomando. Settimo minuto da sfatare. Sicuramente la difesa personale è solo per persone giovani e atletiche. Questo fa un po' match con quello precedente, no? Ma qual è il problema principale? A che età arrivano le aggressioni? Boh, io veramente ragazzi da tantissimi anni faccio lezioni anche ai ragazzi più giovani e ho visto come a 10, 11, 12 anni già ci sono fenomeni di bullismo e di violenza che vanno gestiti nella loro età, nella loro forza, nel loro contesto. Ci sono situazioni di violenza a vent'anni, a trent'anni, a quarant'anni, a sessant'anni, ma perché no anche ai settant'ottantenni? Non esiste un'età giusta per imparare a difendersi. Esiste il momento giusto per imparare a difendersi e non c'è momento migliore di adesso, perché la difesa personale ti permette di affrontare l'esterno, tutto quello che può accadere intorno a te, dalla persona che ti citofona a quello che bussa alla tua porta, da chi si avvicina alla tua macchina quando hai appena parcheggiato al parcheggiatore abusivo, dalla persona che ti vuole aiutare a portarti il carrello a quello che fa finta di dirti che hai bucato la gomma per poterti prendere la borsetta. Ci sono una marea di situazioni che possono essere studiate, affrontate, comprese e quindi si può fare prevenzione, ma le devi conoscere, devi partecipare a un corso come i nostri per capire esattamente quali sono queste situazioni di pericolo e come affrontarle nel minor tempo possibile. Quindi, bisogna essere giovani atletici? No, non serve assolutamente. L'importante è iniziare il prima possibile a prendersi la responsabilità di capire cosa sta avvenendo intorno a noi. L'ottavo mito da sfadare è quello di, questo te lo leggo perché è troppo bello, le arti marziali tradizionali non sono efficaci nella difesa personale moderna, cioè nei contesti urbani moderni. Che dire, se così fosse, le arti marziali tradizionali che si chiamano così perché hanno una tradizione di combattimento alle spalle, quindi tantissimi anni di test e test e test sul terreno con armi, senza armi, a mani nude, in tutti i contesti possibili e immaginabili, proprio perché vengono da questo tipo di tradizione, sono funzionali. Proprio perché non hanno un regolamento che ti permette di dire adesso è il momento del combattimento, mi concentro, indosso qualsiasi tipo di protezione con queste regole, con un arbitro, adesso è il momento di poter fare quello che ci piace. Ma il contesto di difesa personale è un contesto estremamente reale che deriva dalla sfortuna, non lo so, da quello che sia, deriva proprio da quel momento in cui una persona decide di esprimere e fare violenza su un'altra persona. Questo è dove parte il contesto di difesa personale. E quindi le arti marziali tradizionali come Black Flag Wing Chun sono centinaia di anni che studiano e applicano nel contesto realistico, non reale perché ovviamente non ci ammazziamo tra di noi, ma il lavoro realistico dell'aggressione viene simulata facendo degli sparring, quindi delle simili situazioni di attacco e difesa dove insegniamo tutti i nostri praticanti a istintivizzare delle reazioni, che sono reazioni estremamente pratiche e veloci e che affrontano il combattimento in breve tempo, perché questo ci permette di poter dire a qualsiasi praticante dopo che hai fatto il tuo intervento hai qualche secondo per prendere e scappare nella maniera più veloce possibile, perché non è che possiamo pensare di chiudere una collutazione con un ammanettamento, non siamo delle forze dell'ordine, né con il, passatemi il termine brutale, far fuori l'avversario perché nessuno di noi in etica sarebbe disposto a uccidere un'altra persona se non nei momenti veramente drammatici di rischio di vita e questo parliamo però di una percentuale ancora minore rispetto al mondo della difesa personale perché parliamo proprio di situazioni minoritarie veramente, ecco ne parlano i giornali perché sono situazioni davvero rare e quindi di conseguenza quello che ci serve nell'ambito di difesa personale è intercettare il pericolo, capirlo, cercare di evitarlo, se succede il problema cercare di limitare i danni il più possibile e avere quei pochi secondi per andarsene via, portare a casa la pelle e chiamare i soccorsi nel più breve tempo possibile, questo è molto molto importante. Un altro mito da sfatare è il mito numero nove, ti puoi saper difendere contro più avversari. Allora io anche su questo, no? Io ho fatto anche un video molto giocoso qualche, forse ormai un anno fa, molto divertente e giocoso dove abbiamo fatto vedere una possibile soluzione in caso di un attacco multiplo, quindi tre persone che è un po' magari in un contesto fuori da una discoteca piuttosto che come si dice dalle mie parti le comitive, no? Quando si discute, magari vanno ad attaccare una persona sola. Ecco la possibilità che una persona che non pratica assiduamente si possa difendere da un'aggressione multipla di più persone sono veramente poche, ce lo dobbiamo dire seriamente. Ovvio che se una persona pratica con costanza, è un professionista, sa come muoversi, ha sicuramente delle possibilità di uscita perché è abituato a livello strategico, è abituato a prendere colpi, ha la visione di insieme del combattimento, è abituato quindi a una competenza da questo punto di vista. Ma quante sono le persone che praticano tutti i giorni più ore al giorno? Davvero poche. Quindi non prendiamoci in giro, è ovvio che se mi trovassi a dover difendere la mia famiglia con quelle dieci, quindici cose che ho imparato magari all'interno dei corsi di Black Flag Wing Chun, comunque le userei pur di difendere, no? Come si dice l'estrema razio. Certo, ovvio, chiaro, ma non possiamo garantire ai nostri praticanti che una persona sola sappia combattere e difendersi da tre persone, a meno che appunto non è un professionista che pratica tutti i giorni. Bisogna essere onesti. Siamo talmente onesti che anche il mito numero dieci è un altro mito da sfatare. Ti posso insegnare a difenderti da un coltello. Beh, anche qui, il mondo diciamo internet, social network, è pieno di video molto belli di persone che si sanno difendere dai coltelli. Esistono persone che si sanno difendere dai coltelli? Certo che sì. Ci sono i professionisti, quello che lo fanno per lavoro, militari, quindi forse dell'ordine. Ci sono i nostri colleghi che fanno magari solo questo dalla mattina alla sera, che ormai hanno capito, sanno veramente vedere il minuto, il secondo in cui la persona prende parte armata di un'arma da taglio magari. Quindi a queste persone è ovvio che funzioni. Ma anche qui, quanti di noi si allenano contro armi reali almeno due, tre ore al giorno, sempre. Ragazzi, davvero, non prendiamoci in giro. Contro un'arma da taglio bisogna stare davvero molto 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 attenti, perché si trovano molto più facilmente rispetto alle armi da fuoco. Un'arma da taglio potrebbe essere un collo di bottiglia spezzato per terra, potrebbe essere un taglierino, un coltello o qualsiasi altra cosa che potrebbe ferire tagliando. Io non so neanche se quell'oggetto è pulito o no. Quindi ci sono tante spettita da vedere veramente. Quindi quello che noi diciamo sempre nei nostri corsi di difesa personale non trattiamo questa tematica, se non nei livelli molto 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 alti, quando ci sono dei professionisti che praticano appunto due o tre ore al giorno, allora lì possiamo vedere delle possibili soluzioni. Ma la regola numero uno è contro armi. Corri più veloce che puoi, se puoi. O comunque sia, come affrontiamo i nostri corsi, cerca almeno di coprirti le parti vitali per non rischiare di lasciarci la pelle. Davvero, facciamo estrema attenzione anche a questo punto. Punto numero undici è la difesa personale si riduce solo agli scontri fisici. Ecco, questo è uno degli ultimi due che abbiamo lasciato appunto per la parte finale di questo video per un motivo molto semplice. Molti pensano che la difesa personale sia solo una sequenza di tecniche. Quindi quello mi attacca col pugno, io faccio così, quello mi afferra, io faccio colà, eccetera. In realtà, davvero, la difesa personale parte dal tuo mindset, parte dalla tua mente inconscia. Cioè parte da quello che tu stai inserendo all'interno della tua mente mentre pratichi, mentre provi, mentre fai test, mentre fai test sotto stress, mentre fai lo sparring, perché ti devi portare a capire quanto è brutto fare appugni, quanto è brutto entrare in una colluttazione, in uno scontro fisico. Ci sono davvero troppi rischi e pericoli. Puoi finire a terra, puoi sbattere la testa, ci puoi lasciare davvero le penne. Quindi prima di affrontare l'aspetto strettamente tecnico, marziale, le botte, i cazzotti, i calci e quello che serve, c'è prima tutto il lavoro da fare che riguarda la mentalità. Quindi tutto quello che è la tua autostima, la tua capacità di saper dire di no a un invito, sebbene ripetuto, magari suddolo o magari fatto in maniera magari anche amichevole, ma quando tu non ti senti ancora di dire sì, di no e devi saperlo dire bene. Appunto dobbiamo lavorare di più sulla mentalità, sul saper dire no, sulla gestione delle distanze. Altrimenti ogni tipo di situazione, magari di pericolo, dovrebbe diventare una colluttazione. Basterebbe andare in una metropolitana di Roma. Se tu prendi la metropolitana di Roma andata e ritorno tutti i giorni, ti assicuro, te lo metto per iscritto, che se tu vuoi trovare la situazione dove c'è una possibile colluttazione, la trovi. Te lo assicuro perché lo vedo, ci vado, le frequento e è veramente pieno di situazioni di pericolo. Quindi devi stare estremamente attento e avere una mentalità davvero forte per non cadere nelle provocazioni che avvengono ogni giorno, davvero troppo, troppo, troppo frequentemente. Ultimo, ma non meno importante, il mito da sfatare, è il dodicesimo, con un weekend impari tutto. Allora, questo alcuni diranno, ma come? Ma voi insegnate nei weekend dei percorsi intensive anche le parti di difesa personale e adesso mi dici che con un weekend non impari tutto. Beh, esattamente così. Noi non diciamo che con un weekend puoi imparare tutto, perché anche se fosse con le nostre 15 ore, hai tutti gli elementi che ti servono per imparare a difenderti, ma quello che farà la differenza nella tua capacità di difesa personale è che cosa ci farai con quello che hai imparato in quel weekend per tutto il resto della tua vita. È ovvio che se tu impari a tirare un pugno, poi un altro pugno, poi un altro pugno, ma poi questi pugni non li tiri mai più e pensi che soltanto perché l'hai visti o perché l'hai praticati per 5, 10, 20, 50, 100 ore, pensi che questo funzioni. Non è così. Le cose che funzionano, funzionano solo se le pratichi con costanza. Mi raccomando davvero, questi sono alcuni 12, sono dei tanti miti da sfatare, potremmo stare qua veramente tantissime altre ore, anzi ti invito a scrivere nei commenti se hai ancora altri miti che ti sono stati raccontati rispetto al mondo della difesa personale e ci faremo insieme un altro video e ci faremo un sorriso su alcuni. Ci arrabberemo come succede a me, come vedi, per altri perché ci tengo veramente tanto a che le persone non si facciano male e non rischino la pelle. E prima di salutarti, un'ultima cosa importante. Ricordati, la difesa personale realistica e veramente efficace e consapevole parte dalla tua mente. Dopo la mente, la seconda cosa importante è capire come rendere efficiente ed efficace il tuo corpo nel minor tempo possibile, con l'idea fondamentale di portare sempre sano, veramente e salvo il tuo corpo a casa. Ci vediamo nei nostri percorsi intensive per studiare bene la difesa personale realistica.